...con salame e vitegame di pasta al pesto del resto non sono mai riempi al pesto più giusto mi sono raffreddato poi verso sera mi sono svegliato come linea finita, finita e chiusa volevo andare a farlo come piove poi c'è il mio cuore che riusciva dopo dal nuovo notizio c'è carta continuamente ma purtroppo per tanto la legge è latitante e certe sere che mi sento solo e stanco come capito pianisco la voce e torno un canto sono super dotato cielo grosso è un modo per lo stufa si chiama Rocco